E adesso abbiamo con noi Lino Ventura! Eccolo qua! Buonasera! Come sta? Si accomodi pure? Ah, Lino Ventura, senta un po', lei è famosissimo anche qui in Italia ma in tutto il mondo e si dice lei è attore francese, 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 ma insomma francese mica tanto! No, io sono italiano! Ecco, lei si sente più francese, più italiano o più parmigiano? Parmigiano! Parmigiano? Parmigiano! Perché fa bene! Senta, grazie mille, quando è partito da Parma? Che ricordi ha di Parma? Ricordi da bambino perché io sono un figlio di emigrante e sono stato a Parma fino all'età di diciamo di 8 anni, 7-8 anni, ma però ci ritorno sempre perché ho, diciamo che ho bisogno di tanto in tanto di una buona iniezione di capelletti, di culatello e di lambrusco. Ah sì, perché evidentemente non è solo quello che le manca, ma le manca lo spirito e diciamo così il calore che circonda tutto questo, no? Beh, è una parola che diciamo il clima. Il clima, giusto. Senta, è in Francia, quando lei è arrivato è andato a Parigi subito? Sì. E come ha trovato questa città? Come è stato l'impatto di un ragazzo italiano a Parigi? Beh, sono dei ricordi un po' lontanini quelli che sono... Vabbè, ma insomma dell'altro ieri, su, non esageriamo. Ma sa, uno, un ragazzo quanto parte da Parma, soprattutto a quell'epoca, che arriva in una città come Parigi era un po' sbalordito, diciamo. Sì. Senta, lei ha fatto moltissimi film. È stato il cinema a scegliere lei o lei a un certo momento ha detto io voglio fare l'attore? No, è la prima versione. Il cinema a scegliere lei, come è successo? Ma diciamo che è un concorso di circostanze, insomma, è un po' lunga da spiegare, ma diciamo che cercavano un italiano per una coproduzione franco-italiana che doveva avere un fisico tale tale e doveva essere atto di parlare italiano, francese, eccetera, eccetera. E c'è un amico mio che era in questa produzione che ha detto ma io ne conosco uno, quindi. Proviamolo. Proviamolo. Si sono messi alla mia ricerca, mi hanno trovato, Jacques Becker è venuto a vedermi, mi ha proposto di fare il cinema, mi ha detto di no e eccomi qua. Bello, pensa un po' se diceva di sì, che cosa sarebbe successo? Forse è la stessa cosa. Forse è la stessa cosa, certamente. Senta, e fra i film che lei ha fatto, ne ha fatti con i più grandi attori che ci sono evidentemente nel mercato internazionale in questo momento, c'è un episodio, un attore, una persona che lei ricorda umanamente con molta simpatia? Beh, sì, Jean Gabin. Jean Gabin? Sì. Era un uomo adorabile, com'era? Sì, era tutta una, diciamo, una leggenda attorno a lui, perché, insomma, io me lo ricordo perché ho fatto il mio primo film con lui, non è vero? Poi siamo diventati molti amici, insomma, era un po' il mio protettore, se vuole. E evidentemente era circondato da questa leggenda di uomo un po' orso, un po' così, ma era semplicemente della timidità e del pudore. Certamente. Senta, lei ha sempre fatto ruoli di uomo duro, ma dal cuore tenero e anche un po' melanconico. Nella vita com'è? Spiritosissimo, probabilmente. Ma questo dovrebbe chiederlo agli altri, ma non a me, io non so come sono. Il suo matrimonio ha resistito, anzi, resisterà anche per moltissimi anni, perché sua moglie è, diciamo, così generosa o perché lei è un bravo uomo di casa anche? Mi guarda. Ah, quello è uno sguardo assassino però, eh? No, 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 ma cosa devo rispondere? Eh, che ne so io, me lo deve sapere lei. Come mai dura questo matrimonio che nel mondo si sa del genere? Ma perché è una cosa così... È rara, è abbastanza rara. Ci sono molti divorzi, molte cose, eh? Invece no, voi due sempre insieme. Vuol dire, insomma, che andate da... Diciamo che siamo di vecchia moda. Ah, siete di vecchia moda, ma questo va benissimo. Senta una cosa, noi abbiamo scoperto che lei ha tre piccoli hobbies, diciamo così. Uno è il tennis, gioca bene a tennis. Uno è la musica barocca e l'altro è la cucina. Mi incuriosisce un po' perché anche in Francia si cucina bene, ma in Italia forse di più. Non voglio farla nazionalista, ma insomma. Lei ce la dà una ricetta veloce veloce, buona, firmata a Lino Ventura? Una ricetta veloce veloce? Sì. E come si fa a fare una ricetta veloce veloce? Già questo è un buon punto a suo vantaggio, non si può cucinare velocemente quasi mai. Spaghetti, aglio, olio e peperoncino, questo è veloce veloce. Sì, sì. Ma invece è un po' più complessa? No, non si può in cinque minuti. Non si può in cinque minuti. No, no. E lei cucina ogni tanto? Sì. Il piatto che sa fare meglio? Beh, ce ne sono parecchi. Uno? Ma uno, uno, non so, di zuppa di pesce. Non so perché vi sta l'ora, zuppa di pesce. Anche lei c'è un po' di malinconia. Anche lei? Eh beh. Vabbè, ma per lo spettacolo questo è d'altro. Comunque, zuppa di pesce fatta, ecco, all'italiana oppure... No, alla francese. Alla francese. Ma insomma, zuppa di pesce. Traditore. Ce ne sono ancora parecchi. Ce ne sono ancora parecchi. Lei lo sa che in Italia è molto famoso il lotto? Sì. Il gioco del lotto. Ecco, c'è un numero che non esce mai e che è il 34. Sono moltissime settimane che si aspetta questo 34 e molte persone hanno giocato e aspettano che esca per rifarsi di tutti i soldi che hanno giocato, giusto? No. Ecco, lei sogna la notte? Beh, sì. Ecco, cerchiamo di vedere se nei suoi sogni c'è questo diabolico 34. Vedi mai che Lino Ventura porta fortuna? Oddio, porta fortuna sempre, ma in questo caso specifico. Proviamoci, tanto non esce, se no da solo. No. Va bene. Allora, ha mai sognato l'erba? L'erba? Eh, no. Eh, è drammatico. Vabbè, ha mai sognato l'avorio? No. Come faccio? Ha mai sognato un carrozziere? Un carrozziere? Un carrozziere? Un carrozziere? Avrei dovuto sognare un carrozziere? Sì, per il 34. No, non si può. Vabbè. La cotognata? Non so, questo lo leggo qua. La cotognata è una marmellata di mele cotogne, un tipo di mele. No. Non ci pensa neppure. Ma le catene, ecco, tanti film, gangsters. Le catene? Le catene, le ha sognate. Le ha sognate le catene? Allora esce il 34? Magari. Ci proviamo? Andiamo. Va bene, andiamo a giocare anche noi due, non subito, ma insomma. Va bene, Lino Ventura dice che sabato prossimo esce il 34, ha sognato le catene. E' guai se non esce allora. Va bene, vediamo di sfidare la sorte. La ringrazio molto. Grazie a lei. No, no, adesso le voglio offrire un goccino di spumante. Lo vuole? Ah, volentieri. Ecco, ben fresco. Mentre ci prepariamo ad ascoltare Patti Bravo, questa grande cantante italiana che anche in Francia ha avuto un grandissimo successo. Sì, la conoscevo. Dicevano bravo, bravo. È vero? Bravo, bravo. Va bene? Allora, ecco di nuovo Patti Bravo con la sorpresa che ci ha promesso prima. Grazie.